Sono l'ultimo quindi tutti quanti adesso hanno l'ansia perché per andare a cena mi sento piccolissimo di fronte a queste testimonianze, di fronte al bene che fa la fondazione La Famiglia Affinita, veramente piccolo. Eppure non mi scoraggio perché io questa sera si è compiuto un miracolo in me ma sicuramente in ciascuno di voi. Il miracolo delle piccole cose non è innanzitutto in quello che possiamo fare eppure siamo chiamati e Giovanna ce l'ha ricordato e ce lo ricorderà con la sua capabilità le cose che possiamo fare ma quello che abbiamo visto, mirare le piccole cose, riconoscerle, cosa abbiamo visto stasera? Cose che magari non cambieranno la storia del mondo, né il Mammut, né Chuck Sigira, né il padre Renato potranno salvare pochissime persone. Se guardiamo di fronte alla vastità ai miliardi di persone eppure la bellezza e il miracolo in questo tutto cristiano, cioè tutto di Gesù, è quello di vedere le piccole cose e valorizzarle. Gesù non è venuto per stravolgere il mondo, per dire che il mondo non è buono, veniamo noi e cambiamo tutto, ma per prendere il buono, per valorizzare, per farlo crescere e il bello della fondazione, direi il bello di Dora e che Dora trasfonde nella fondazione è proprio il fatto di saper riconoscere questi germogli e andarli a innaffiare quotidianamente, annualmente, lì dove sono. Fiori che nascono senza volerseli appuntare all'occhiello. Può dare una goccia d'acqua al Mammut, una goccia a Chuck Sigira, in Brasile a Padre Renato, tante cose, tantissime altre ne fa a Cervino, lasciandole lì, non se ne appunta, non se ne vanta di questa cosa. E questo è un po' credo la logica di Dio, ci fa crescere perché noi possiamo risplendere. Se è vero che allora, vado verso la chiusura, se è vero che il miracolo è nel riconoscerle, queste piccole cose, è anche vero che però a noi tocca fare qualcosa, tocca appunto contribuire, contribuire rimboccandoci le maniche innanzitutto. Cose piccole noi abbiamo ricevuto, cose piccole ci hanno cambiato la vita, una goccia, una briciola, poco, una goccia di sangue di Cristo ci ha salvato, una briciola di pane ci dà tutta la divinità, una goccia d'acqua ci ha fatto diventare figli di Dio, poche cose, veramente poche cose. E in quel poco che diamo, quella goccia che sia il contributo che avete dato per la cena di questa sera, o il contributo magari più grande dei partner e che darete ancora più grande, perché Giovanna mi ha garantito che c'è una percentuale, il contributo che date questa goccia, lì come nel pane c'è tutto Gesù, in quella goccia c'è tutto quello che siete voi, il vostro impegno, la vostra generosità, a volte anche la vostra fatica, i peccati che condividiamo tutti quanti, ma se in quella goccia, se quella goccia è donata con generosità, sicuramente è feconda, irriga e fa crescere ed è questo il mondo migliore che un po' alla volta vogliamo vedere, vogliamo intravedere e vogliamo far crescere.